Una nuova scossa di terremoto di 7.8 gradi Richter si è verificata nel nord del Cile. Un allarme tsunami di livello moderato è stato diramato dal centro all'ERTE del Pacifico. Ancora ora è di paura dunque per la popolazione che ha ricevuto la visita della presidente Michelle Bacillet. Il terremoto e i tsunami di ieri hanno fatto sei vittime e riportato il paese Andino al trauma del sisma del 2010. Con un epicentro localizzato a largo della città di Iquiche, nel nord del paese, il terremoto di ieri e la successiva tsunami hanno spinto le autorità di Santiago ad evacuare la totalità della popolazione residente nelle zone costiere. Il governo è qui per darvi il sostegno e rendere omaggio al carattere della gente di Iquiche, che ha dimostrato al paese un grande senso civico di responsabilità, così come hanno fatto i residenti di Arika e di Parinacota, ha detto il capo dello Stato che quattro anni fa aveva dovuto affrontare una crisi di entità ben più grave, con oltre 500 vittime. La scossa di ieri, 8.2 gradi sulla scala Richter, registrata poco prima delle 9 di sera, aveva avuto sin da subito decine di repliche.